Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano, è un attore pornografico e regista pornografico italiano. Il suo pseudonimo si ispira a Rocco Siffredi, il protagonista del film Gangster Borsalino, interpretato da Alain Delon. A ricordare Gabriele Galetta sui social non è stato solo Rocco Siffredi, ma anche Malena. L'attrice è Luci Rosse e personaggio televisivo ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la perdita dell'amico. L'ex isolana ha scritto, voglio ricordarti così, come sempre tu hai sottolineato, due grandi amici. E poi ha aggiunto, ogni volta che ti ho ringraziato, per quello che hai fatto per me, per quello che sono diventata, tu mi hai sempre, e solo detto sei la mia fierezza. Gabi ci lascia un vuoto incolmabile, ma so che anche da lassù sarai il mio angelo. Come lo sei stato dal primo giorno a Budapest, 26 settembre 2016. Ha chiusato Malena, firmandosi la tua piccola star. Grazie a tutti.